La chiave, professor Galli, un'ultima cosa al volo che poi rimango in Lombardia perché è arrivato anche Guido Bertolaso e copriamo se la sua Lombardia ha trovato il passo giusto, i numeri di ieri sono molto grandi e lei pensa che stiamo arrivando alla fatidica 500.000 vaccini al giorno, cioè siamo arrivati, abitiamo veramente alla meta? Non lo so però mi sento di dover sottolineare, dati alla mano, che il salto fatto in Lombardia è molto importante e saluto Guido Bertolaso che certamente ha avuto un ruolo molto importante in tutto questo. I numeri lo dicono e mi fa molto ma molto piacere, siamo, ripeto, e non perché non ci siano stati avanzamenti importanti ma il tempo ci vuole e siamo ancora lontani dall'avere ottenuto il risultato complessivo. Allora, devo correre in pubblicità, grazie professor Galli, i numeri non mentono mai, il tuo professor Galli, Bertolaso, a me ce li spiega i numeri, lei ormai mi sembra praticamente Mr. Wolf. Torniamo subito.